Vieni guardato ovviamente, fatti vedere Giorgio, fatti vedere qui da Facebook che sta in Europa, ecco la tua, Giorgio, è l'amico Giorgio Miria, mi fa anche di Carbone e poi, non lo dico perché, non lo dico perché poi parleremo di lui allora a voi saluto Verunica Pisano, cantante Volga, è venuta a trovarci Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ciao Sì, grazie a te per l'ospitalità, anche per oggi Forza Gasteddu Ciao Renato, funziona benissimo, perfetto Perfetto, perfetto, allora mi fa piacere, siete venuti qua, vi immortaliamo, telecamere, sono organizzatissimi Giorgio Miria è il vostro produttore, anche mio amico sicuramente, anche mio ormai in realtà ci siamo rincontrati, ho parlato di lui, anche al mio caro papà, no? Che saluto, ciao papi Allora, allora, siamo a vigile di Natale e voi ovviamente siete venuti qua per presentare quest'ultimo lavoro state andando poi tutte le domande, no? Sì, è una canzone scritta da Mauricio Gastaldi, è dedicata al Cagliari La ascoltiamo, va bene, benissimo L'ascoltiamo, diglielo L'ascoltiamo direttamente dal cd Dalla pennina, portale Però io ho anche la penna Ecco, portale Allora, facciamo un attimo, fanno un attimo la pubblicità e poi torniamo il studio Stai ricordando E' su, il camera è... E' su